Aspettando Livi di Aperti è ancora all'Uscinasco, azienda agricola Siffredi, seguiteci. Ciao Carlo! Eccoti, ciao! Hai preparato tutto? Sia siamo pronti per Livi di Aperti? Sono pronto! Aspettando Livi di Aperti arriva all'Uscinasco, azienda agricola Carlo Siffredi. È un'attività familiare, già i miei nonni avevano un'attività di frantoio, tutto questo nasce dalla passione per recuperare questo territorio. E ai tuoi clienti e ai tuoi ospiti che cosa organizzerai? Vabbè, logicamente la degustazione di olio dopo Riviera Ligure. Un bicchiere di buon vino, dei prodotti tipici Liguri in degustazione, e poi una piccola camminata negli Olivetti, e poi una visita nel centro storico dove ci sono dei bei musei. Carlo, grazie di tutto, io ti consegno la targa di Olivetti Aperti. Grazie Leonardo, e vi aspetto a questo punto tutti il 18 e il 19 giugno per passare due giornate all'insegna del panorama Olivicolo Ligure. Ciao a tutti! A presto!